tu ti lavora, ci ti gioca a fare opla, guarda che bello, ancora ancora adesso aspetta che controlla che non ha di una marcia e deve altrimenti utilità, e ho visto visto anche di qua hai fatto fagli scendere un attimo i liquidi aspetta, salvo su, dai un pochino che scendano i liquidi eppure, fila Luca vai, vai ok, tieni sterzato dall'altra, dall'altra dall'altra ok vai, vai, lasciala come viene, terza a destra ora gira vai indietro Luca troppo facile uscire così però si, fatti lì, 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 lì lì, lì, lì